Mister Sassarini, domenica 17.30 si va ad affrontare il Pescara. Innanzitutto, che formazione è? Ma è una squadra che gioca un ottimo calcio con un ottimo allenatore, è una squadra costruita per vincere il campionato e quindi dobbiamo avere tutta l'attenzione del caso, è una sfida difficile ma non impossibile. La formazione forse del Pescara è una partita con grandissime ambizioni, forse un po' deludente, qualche contestazione anche da parte del pubblico. La Pistonesi cosa deve fare? Deve fare la sua partita, deve stare concentrata per tutti i 90 minuti di recupero e cercare di portare dalla propria gli episodi che abbiamo visto che nel corso del campionato sono stati poi decisivi sia in positivo che in negativo. La classifica continua a non sorridere, di fatto Modena e Reggiana, forse anche Cesena stanno facendo un campionato a parte, il resto tantissime squadre racchiuse in pochi punti. Sì, dobbiamo essere bravi a spostare la classifica per riagganciarci a tutto il gruppo. Domani per la Pistonesi tutti a disposizione? Siamo tutti a disposizione, è l'esclusione di Tempesti. Arrigo Sacchi, Agliana a presentare il suo libro, ha parlato di cultura del lavoro e credere in se stessi. Ma questo è fondamentale, nasco 26 anni fa vedendo un allenamento di Arrigo Sacchi, quindi so perfettamente qual è la sua mentalità e la coerenza, la perseveranza nelle idee. Quindi per la Pistonesi è necessario credere nei propri mezzi? Assolutamente, assolutamente.